Il Consiglio Comunale di Pescara ha impantanato su questo registro delle unioni civili, ieri sera avete chiuso dopo le 22, oggi siete di nuovo in Consiglio a dibattere, c'è alta tensione, perché? Perché è evidente che un provvedimento non condiviso, non necessario, anzi inutile come abbiamo detto, demagogico, che serve soltanto a far sventolare a qualcuno la bandierina di partito, non risolve uno solo dei problemi che la città invece deve affrontare e che il Consiglio Comunale deve affrontare, per cui si sta perdendo tempo su un atto inutile che non produrrà nessun effetto, mentre la città langue e mentre ci sarebbe bisogno di adottare provvedimenti che invece il Consiglio Comunale non vuole discutere, non certo per l'indisponibilità della opposizione di oggi, ma per l'evidente incapacità della maggioranza a tracciare un percorso che porti la città a crescere. Ovviamente è un argomento sensibile che va a toccare l'allargamento dei diritti a molte persone, soprattutto a persone che fino ad oggi sono state escluse, come le coppie gay e lesbiche, e ovviamente questo argomento è diventato una questione di principio per cui fare opposizione più che su altre questioni forse più rilevanti per l'amministrazione, ma meno rilevanti per la cultura che esprime questa città, come ad esempio il bilancio o altri provvedimenti. Indubbiamente c'è un problema di vuoto legislativo del Governo nazionale, un vuoto che ormai abbiamo da oltre dieci anni, considerate che in Europa siamo rimasti solamente noi e la Grecia a non avere alcuna regolamentazione in tale materia, e che la quasi totalità, tranne l'Italia e dei paesi europei occidentali, ha addirittura i matrimoni gay, non stiamo neanche parlando delle unioni civili. Noi immaginiamo che con atti come questo, come hanno fatto a Milano due anni fa, hanno fatto a Roma a gennaio e stiamo facendo noi in questi giorni, si possa anche stimolare a livello nazionale di fare in fretta e fare bene.